Non vedo l'ora di ritrovarmi con la mia gente, con la mia squadra. Sono già sei anni che sono in Aprilia, allora non sono più meccanici per me, è parte della mia famiglia. Sono molto carico, ovviamente non ho più 20 anni, ma loro sono perfettamente che anche se ho 32 ho la fame di uno da 18, sono fisicamente molto, molto a posto e veramente non vedo l'ora di iniziare tutto insieme questo campionato. A Maverick non gli posso dare un consiglio di comandare più forte, lui è un pilota fortissimo, molto bravo, ha già anche l'esperienza. Se posso permettermi di dargli un consiglio sarebbe da crederci, crederci tanto su questo progetto e è molto importante andare il 1000% tutti insieme. Volevamo dare un saluto molto forte a tutti i tifosi di Aprilia e a quello che non ti fate l'Aprilia, fatelo, perché l'anno scorso ci abbiamo dimostrato che siamo in grado di lottare con i migliori. Io do la mia parola che quest'anno farà divertire a tutti i nostri fan e spero vedere tutti sui circuiti. Ciao ciao!